Hai messo la museruola a Ronaldo, hai fatto delle chiusure a strappa applausi, purtroppo non è arrivata però una prestazione positiva per la squadra a livello di classifica e di risultato. Grazie soprattutto, però volevo che questa prestazione ci dava anche un risultato positivo perché abbiamo provato soprattutto nel secondo tempo, non è riuscito, però dobbiamo continuare. Non ci sono alibi, non posso dire che non c'è la partita perché abbiamo visto che la Roma ha provato il secondo tempo, ha fatto quasi tutto il tempo la partita, eravamo messi al loro metà campo, però non l'abbiamo sfruttato per creare occasioni grandi. C'è la fiducia del Fogliatore verso di Francesco? Certo che c'è la fiducia. Questo è il problema, è che appena uno fa una brutta prestazione tutti vanno addosso per dire che non è in alteccia, ci sta, siamo uomini, in calcio si può sbagliare, come si può giocare anche bene, lui ha fatto delle prestazioni ottime quest'anno e merita i complimenti.